Questi nuovi etilometri che caratteristiche hanno, cos'hanno di diverso rispetto a quelli precedenti? Allora, è un'ultima versione aggiornata, molto più, molto meno ingombrante della precedente versione che aveva circa 20 anni. Le operazioni sono ridotte nella tempistica, nella precisione e quindi abbiamo delle facilitazioni a livello su strada anche nell'impiego da parte dell'imperatore di polizia stradale, quindi una semplificazione e un'accelerazione dei tempi di controllo anche su strada da parte degli utenti. Quanto sono frequenti i controlli con le etilometri? I controlli su etilometri sono praticamente costanti, ogni pattuglia della polizia stradale è dotata di un etilometro e tutti i fini di settimana vengono svolte delle attività con le stragi del sabato sera, quindi ogni sabato abbiamo i controlli della polizia stradale, soprattutto in ambito urbano. Una volta al mese vengono fatti anche i controlli antidroga con una paricatura particolare che si chiama drug test e il personale sanitario della polizia di Stato.